In questo numero di AgriFood Magazine, l'Italia avrà il suo marchio biologico istituzionale, la fiera dell'eating out torna a riunirsi a Rimini, latte nelle scuole, un bando da 6 milioni. La finta primavera mette in pericolo i raccolti. L'Italia avrà il suo marchio biologico istituzionale. Il marchio biologico italiano, di proprietà del Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare, è stato istituito dalla legge numero 23 del 9 marzo 2022 ed è riservato ai prodotti biologici ottenuti esclusivamente da materie prime del nostro paese ed andrà ad affiancare il marchio con la fogliolina verde che contraddistingue le produzioni biologiche in Europa per aiutare i consumatori a capire immediatamente quali sono i prodotti delle nostre regioni e dunque di prossimità. L'obiettivo del Ministero è quello di raggiungere nel 2027 il 30% dei terreni coltivati a biologico rispetto al termine fissato dall'Unione Europea del 2030, percentuale già raggiunta da diverse regioni italiane. Il rilancio del settore, ha precisato il sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo, passa anche da una comunicazione efficace. Accanto alle campagne istituzionali credo sia utile coinvolgere soggetti come gli antilocali o la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali. Si raggiungerebbe così un duplice risultato, si favorirebbe un rilancio dei consumi e si coglierebbero appieno le opportunità legate ad esempio ai distretti biologici. Come il resto dell'agricoltura, anche il settore biologico sta attraversando un periodo di difficoltà, causato dai costi di produzione, da una battuta d'arresto della domanda e dagli effetti dei cambiamenti climatici. L'obiettivo comune, ribadisce Deramo, è consolidare la leadership italiana e rafforzare un comparto strategico per il paese e per la nostra agricoltura. La filiera dell'Eating Out torna a riunirsi a Rimini per la nona edizione di Beer and Food Attraction, l'appuntamento di Italian Exhibition Group dedicato alle eccellenze birrarie italiane e internazionali in scena dal 18 al 20 febbraio. Spazio anche soft drink al mondo della mixology e alle proposte gastronomiche del fuoricasa. Una manifestazione in costante crescita, come rilevato dall'amministratore delegato di IEG, Corrado Peraboni. Cresce col crescere degli anni e cresce col cambiare degli abitudini nel nostro paese. Insomma, il consumo fuoricasa è sempre più importante. Questa manifestazione mira a rappresentarlo nelle varie anime, quindi dalla birra sia a essere industriale che artigianale, poi alla pizza, tutto quello che serve a chi poi ci fornisce la somministrazione quando usciamo dalle nostre case. Il salone si svolge in contemporanea con la sesta edizione di Bibitech Expo, la fiera professionale delle tecnologie e materie prime per birre e bevande e la tredicesima edizione del International Orica Meeting di Italgrove. Diciamo che l'urbanizzazione, i ritmi di lavoro di questi ultimi anni hanno portato sempre più a consumare fuoricasa, in modo magari diverso, meno tradizionale, con consumi magari più contaminati tra aperitivi e cena, da consumi che anche nell'alimentazione sono magari un po' meno tradizionali. Quindi è una manifestazione che effettivamente sta cambiando pelle, ma è un pregio perché significa che riesce a stare a passo con il tempo dei consumi fuoricasa in Italia. Oltre 600 i brand espositori provenienti da 16 paesi, soprattutto Italia, ma anche Germania. Belgio, Spagna e Regno Unito. Abbiamo anche con l'aiuto di ICE, abbiamo avuto numerosi buyer provenienti da paesi anche extraeuropei. È ovvio che la forte attrattività di questa manifestazione è la parte specialmente Made in Italy, dove chi magari ha una ristorazione incentrata su questo tipo di consumo in paesi stranieri, qua può trovare tutto quello che serve per essere il più possibile Made in Italy davvero. Il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto che dà il via al nuovo programma Latte nelle scuole. La dotazione è di 6 milioni di euro. Fino al 13 marzo i produttori del settore lattiero caseario, le loro associazioni cooperative o consorsi potranno presentare i progetti per promuovere il consumo di latte fra gli alunni delle scuole primarie. Analogamente al bando già avviato per frutta e verdura nelle scuole, anche questa misura europea per la promozione del latte negli istituti sarà realizzata dal MASAF non più attraverso appalti e imprese attive nella distribuzione, ma con un modello che si rivolge direttamente al settore primario. Il programma finanzia la fornitura e la distribuzione di prodotti lattiero caseari fra gli alunni degli istituti scolastici primari, nonché azioni educative di accompagnamento, tra cui corsi di degustazione, attività ludico-ricreative, visite a fattorie e azioni informative sull'agricoltura, sulle sane abitudini alimentari e sulle filiere. Si vuole così promuovere anche un approccio sostenibile, sensibilizzando gli alunni sul consumo equilibrato e le filiere corte, con un effetto protettivo sulla salute e di contrasto agli sprechi. Le temperature sopra la media, registrate in tutta Italia in questo inverno, che potremmo definire bollente, stanno ingannando la natura. Un caldo allarmante, soprattutto al sud Italia, dove si parla di finta primavera con mandorli in fiore, uliveti in perenne vegetazione e api svegliate in anticipo. Una situazione allarmante, spiega Coldiretti Puglia, per il comparto agricolo che deve affrontare la mancanza di piogge, diminuite come già successo lo scorso anno, quando le precipitazioni hanno fatto registrare una riduzione del 14%. Preoccupa anche l'aumento di 1,4 gradi delle temperature rispetto alla media storica degli ultimi 30 anni. Il caldo fuori stagione, spiega l'associazione, manda la natura in tilt e favorisce anche le fioriture anticipate, come per le mimose, ed espone le coltivazioni ai danni di un probabile abbassamento delle temperature con la conseguente perdita dei raccolti. Una somma di fattori che si traduce in un aumento dei costi sostenuti dagli agricoltori. Il prezzo dei mangimi, infatti, ha subito un forte rialzo a causa delle quotazioni più elevate delle principali materie prime, quali soia, mais e cereali, dovute anche all'attuale crisi per i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente. Per Coldiretti Puglia servono investimenti da parte delle istituzioni, oltre che delle imprese agricole, anche per il recupero dell'acqua attraverso sistemi fatti da piccoli invasi.